personale a rotazione per salvare il punto nascita di piario questa la proposta della regione al ministero che si esprimerà a breve nella polemica per la pista di fondo della montagnina fa sentire la sua voce anche il sindaco di gandino castelli dice che lo sci club deve rispettare il contratto e invoca trasparenza ottimo debutto a schilpario per il bergamo ski tour 260 atleti si sono dati battaglia sulla pista degli abeti tra i signores vittoria di sarah pellegrini e giorgio dicetta buonasera benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di antenna 2 personale a rotazione per salvare i punti nascita a rischio chiusura tra i quali anche quello di piario questa la proposta della regione al ministero della salute sentiamo vladimir lazzarini l'assessore regionale al welfare giulio gallera ha presentato ieri al ministero della salute a roma un articolato progetto innovativo che tende a superare il numero minimo di 500 parti all'anno come unico elemento in grado di garantire il livello di sicurezza e qualità di un punto nascita l'assessore ha spiegato che una delle ipotesi inserite nel progetto è quella di creare per i punti nascita con meno di 500 parti all'anno un'unica equip di assistenza per le sale parto che ruoti tra i diversi presidi che fanno parte della stessa azienda e che condivida i protocolli e l'esperienza clinica in modo da garantire la stessa sicurezza e qualità offerte nei punti nascita con più di 500 parti questo progetto sperimentale che il ministero ha giudicato interessante verrà ora sottoposto al comitato percorsi nascita per un parere in regione sperano che in questo modo si possa portare a casa la deroga dalla chiusura tra gli altri del punto nascita di piario il consigliere regionale angelo capelli che aveva criticato il ruolo della regione nella procedura per ottenere da roma la deroga prevede che l'iter possa concludersi in un paio di settimane e si dice certo che la tempestività con cui l'assessore gallera e i tecnici dell'assessorato hanno lavorato per presentare questo innovativo progetto porterà ad una valutazione positiva anche da parte del comitato percorso nascite a cui spetta il parere per la valutazione definitiva parliamo adesso di elezioni si avvicina all'appuntamento con le amministrative in alcuni comuni della nostra zona a sovere sarà di nuovo in campo il sindaco uscente francesco filippini andrea filisetti lo ha intervistato per quanto riguarda le prossime elezioni amministrative a sovere lei si ricandiderà sì ormai è ufficiale da qualche giorno dopo una serie attenta riflessione ho deciso di riprovarci perciò appena avremo notizie in questo senso siamo punto della partita nell'ottica della continuità anche con la lista quindi stesso nome della lista o cambierà qualcosa no l'idea è di mantenere il nome della lista per sovra con il simbolo la farfalla come ormai abbiamo fatto nelle precedenti tornate elettorali la lista diciamo si è continuità nel ritrovamento chiaramente siamo orgogliosi della dell'esperienza fatta con il gruppo attuale con la giunta che mi ha mi ha sostenuto avevo dei ricambi stiamo cercando di valutare nuove figure che abbiano entusiasmo voglia di cimentarsi in questa impresa si può dire ormai quindi cercate nuovi innesti si stiamo cercando nuovi innesti trovando il giusto equilibrio tra figure maschile e figure femminili stiamo cercando di creare una lista che sia la più trasparente e anche adeguata al paese speriamo di riuscire a fare un buon lavoro di presentarci cittadini con volti consolidati il nucleo diciamo storico ma con anche nuovi nuovi volti che si presentano per la prima volta pensiamo sul panorama amministrativo solverese lista civica pura o comunque una lista civica con qualche appartenente no pura pura proprio abbiamo ribadito nel nell'ultimo incontro effettuato anche perché spesso e volentieri chi entra nel nostro gruppo ci chiede appunto ci fa questa domanda specifica perché vogliamo che sia una lista civica come l'ha stata per cinque anni ogni tanto quando si parla tra di noi io oggi sono orgoglioso di dire non so cosa votano i miei compagni di viaggio attuali e questo è un po' l'ospito che ci vuole contraddistinguere anche per il futuro. E nel programma avete già in mente qualche cosa in particolare? Beh in particolare diciamo che nel programma siccome in questo periodo stiamo adottando e approvando il nuovo piano generale del territorio c'è una visione rispetto al polo scolastico è un po' decentrato verso la zona di Canneto, la frazione Seller e questa è un po' l'idea per il futuro nel programma diciamo che i lavori è un po' da valutare a fondo perché comunque le idee sono tante dobbiamo cercare di fare una cosa che sia anche un po' equilibrata nel piano generale del territorio che stiamo chiudendo ci sarà una diminuzione della possibilità di costruire e poi la visione nostra è un po' la visione di questo periodo insomma nello specifico progetti ci sono ma dobbiamo un po' entrare nel dettaglio con il resto del gruppo. Mancano ancora diversi mesi dalle elezioni però ci sembra di capire che siate molto avanti. Beh sì, diciamo che il vantaggio tra virgolette di essere amministrazione uscente ci permette di avere conoscenza di quello che è stato fatto, di quello che si potrà fare nell'immediato stiamo pensando di intervenire anche sull'ultima area delle scuole medie e inferiori come le chiamo io sfruttando ancora la possibilità che dà il governo e poi ci proiettiamo nel futuro. Chiaramente questi mesi sono mesi in cui vogliamo chiudere il cerchio e cercare di lavorare per il futuro. Ci occupiamo adesso della polemica in corso a Gandino per la gestione della pista di scinordico della montagnina. Lo Sciclub Val Gandino nelle scorse settimane aveva comunicato la volontà di tener chiuso lo spogliatoio della pista. Una decisione presa dopo le richieste presentate dall'amministrazione comunale per consentire la distribuzione di panini e bevande, richieste giudicate inammissibili dallo Sciclub. Nei giorni scorsi abbiamo dato la parola al consigliere di minoranza Marco Ongaro, questa sera sentiamo il sindaco di Gandino Elio Castelli. Anche la recente polemica sulla montagnina cavalcata dal consigliere Ongaro nell'intervista ad Antenna 2 non avrebbe dovuto neppure iniziare in quanto lo Sciclub deve solo rispettare il contratto e gli accordi che il suo presidente, signor Lanfranchi Paolo, ha firmato con la comunità montana, unica proprietaria della struttura. E siccome sta gestendo un bene costato alla collettività più di 2 milioni di Euro, deve farlo con la massima trasparenza per restare inutili chiacchiere pro e contro la gestione. Ma ancora una volta il consigliere Ongaro non si smentisce e nella sua volontà di elementare le polemiche, da notizie non esatte, pensando che i gandinesi non controllino. Cita la multa data per i distributori e sa benissimo che non sono 5 mila Euro ma 2 mila e cinquecento, sa benissimo che la vendita dei panini è stata segnalata alla comunità montana da un commerciante della Val Gandino, parla di danno arrecato all'associazione Sciclub che fa volontariato. A questo proposito riferisco la frase pronunciata dal presidente dello Sciclub Paolo Lanfranchi in una riunione in comune nella quale si discuteva delle chiacchiere circa il compenso dato ai vari gruppi che gestivano in fine settimana al Parafulmen e che con lui avevano contribuito in modo eccellente alla crescita del Parafulmen. Elio non esistono più i volontari, il problema non è dare il compenso sicuramente giustificabile a chi lavora, l'importante è farlo sapere per non confondere il volontariato. La polemica dello spogliatoio merita alcune spiegazioni. Lo Sciclub ha avuto dalla comunità montana la gestione della pista da sci di fondo legata contrattualmente alla gestione della baita Parafulmen nel 2003. Ora si vuole far credere con il comunicato dello Sciclub del 2 gennaio 2017 che senza la vendita dei panini presso lo spogliatoio realizzato solo nel 2010, lo Sciclub può sospendere la preparazione della pista da fondo. È una violazione contrattuale. Inoltre la gestione è stata poi prorogata senza nessun bando fino al 2030, risultando un affitto di circa 4 mila Euro all'anno, compensato con i lavori da loro fatti nello spogliatoio e al Parafulmen. È inoltre opportuno ricordare ai Gandinesi che per la costruzione dello spazio tecnico spogliatoio e la sistemazione del nuovo tratto di pista da fondo, costato 300 mila Euro, il Comune di Gandino ha contribuito con 100 mila Euro. Inoltre per giustificare la costruzione dello spogliatoio il Comune ha dovuto dichiarare il manufatto di pubblica utilità. Ora risulta difficile pensare di trasformare lo spogliatoio in bar, accogliendo la richiesta dello Ciclub di poter vendere i panini, vino etc., e anche quando fosse possibile valutare la trasformazione, credo si debba passare per l'assegnazione della gestione attraverso un bando pubblico. Il Comune ha chiesto, oltre a un contributo per lo spazzamento neve, peraltro sempre dato dallo Ciclub, ma per il 2017 ha comunicato di non concederlo, un contributo di 15 mila Euro per un'associazione umanitaria e soprattutto per l'apertura, dei bagni almeno tutti i fine settimana dell'anno. Sicuramente i bagni sono più utili, più necessari e più richiesti dai frequentatori della montagnina. Tutto quanto detto è documentato e a breve sarà disponibile sul sito del Comune. La montagnina e il parafulmen stanno a cuore a tutti i gandinesi e poiché sono un bene pubblico, dopo il giusto compenso a chi lavora per il suo mantenimento, tutto il resto deve essere restituito alla collettività, magari è un'associazione umanitaria, non al Comune e penso che questa azione dovrebbe essere per i gestori, ma anche per l'intera collettività, motivo di grande orgoglio. In questo periodo soprattutto le occasioni non mancano. Da martedì 24 gennaio a sabato 11 febbraio, data presunta per la fine dei lavori, a Gorno verrà chiuso un tratto di via Cornello. La chiusura è prevista dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00. Negli altri orari verrà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico. L'intervento permetterà il collettamento di due terminali fognari non depurati. Verrà garantito il passaggio di mezzi del trasporto pubblico e di emergenza. Per chiarimenti o informazioni è possibile contattare il Comune di Gorno al numero 035 70 71 45. Cambiamo argomento, i colori dell'India in scena al Teatro Crystal di Lovere grazie alla scuola di danza del Circolo Lucchini RS. Il balletto a cui si potrà assistere questa sera in mattinata è stato proposto ai bambini delle scuole. L'antico esotico mondo dell'India sul palco del Crystal di Lovere grazie alla scuola di danza classico-accademica del Circolo Lucchini RS che questa sera porterà in scena il balletto La Bayader. I primi due atti del balletto presentato per la prima volta il 23 gennaio 1877 al Teatro Marinski di San Pietroburgo saranno rappresentati questa sera alle ore 21. Il pubblico rimarrà affascinato dai tesori che questo mondo rivelerà scena dopo scena con delle musiche, i costumi, l'ambientazione orientale così ricca di colori e di calore. La trama antichissima è estremamente attuale con una storia intrise di stati d'animo come l'amore, il tradimento, la vendetta, un mondo di emozioni vissute in scena. Questi due atti della Bayader sono una novità assoluta in quanto mai rappresentati nelle province di Bergamo e Brescia. L'ingresso è gratuito. Adesso per noi è il momento di una pausa, al rientro parleremo del Winter Rock Festival in programma a Parre e poi ci occuperemo della prima giornata del Bergamo Ski Tour a Schilpario. A tra poco. Riprendiamo con il telegiornale. Nuovo appuntamento promosso dal proloco di Parre. domani è in programma il Winter Rock Festival. Scopriamone di più. Ecco, a Parre anche in inverno ci sono appuntamenti importanti. Il prossimo è alle porte. Sì, il prossimo è sabato sera, 21 di questo gennaio bello fresco e noi cercheremo di riscaldarlo con il nostro Winter Rock Festival. Quindi una serata all'insegna del rock più sfrenato e di vario tipo con le opportune novità dell'ultima ora, perché qualche novità poi c'è stata. Abbiamo dovuto lasciare liberi i ragazzi dei Man in Jack per un problema che speriamo si risolvi immediatamente e al meglio, a cui facciamo a nome della proloco e di tutti quanti tanti cari auguri. Abbiamo sostituito questo gruppo con gli splendidi ragazzi nostrani i Rockabillies che faranno quindi del rock anni 50 e 60 e saranno con noi per la serata. A loro si aggiungeranno, come già detto e come lo ripetiamo con piacere, i ragazzi invece stagionati della PN Band che ci faranno il loro rock più uno strano degli anni 70, quello che è vero, vero, che piace a tutti e poi ci saranno le Hot Chili Girls, quindi finalmente un po' di belle ragazze a fare un po' di sana musica. Quindi spazio alle fanciulle, chi manca è perduto. Una bella festa alla quale non mancherà nulla. Non mancherà nulla, ovviamente chi viene con l'inizio stimato dopo le sei del pomeriggio troverà aperitivi, troverà la birra, troverà la sfagiolata, troverà tante buone cose da mangiare, tanta allegria, per cui ci può anche stuzzicare lì qualcosa, mangiare lì e fare poi Baldoria tutti insieme. Sana Baldoria, sempre sana. Per cui vi aspettiamo sabato sera, il 21 di gennaio, all'oratorio di Parre, quindi nella sala Don Bosco, al chiuso, quindi con qualsiasi condizione di tempo noi andremo avanti e riscalderemo l'ambiente. C'è da mangiare, c'è da bere, c'è buona musica, ci sono le fanciulle e che cosa manca? E adesso lo sport, oggi a Schilpario, la prima giornata del Bergamo Ski Tour, gara a tappe di Scinordico. Più di 260 gli atleti che si sono dati battaglia. Nella prova junior femminile si è imposta la veneta delle fiamme oro Anna Commarella. Nella prova maschile il miglior tempo è stato Di Lorenzo Romano del centro sportivo dell'esercito. Nella categoria aspiranti femminile, vittoria di Noemi Glarei dello Sciclub Gran Paradiso. In campo maschile invece successo del finanziere Luca Del Fabro. Nei signores, vittoria di Sara Pellegrini tra le donne e di Giorgio Di Centa tra gli uomini. Ma vediamo il servizio dedicato a questa prima giornata. Fabio Mai, com'è andata questa prima giornata? Direi benissimo, come esordio il tempo ottimo, adesso finalmente è arrivato anche il sole, era un po' freddino questa mattina però la pista era preparata nel migliore dei modi. Gli atleti penso che abbia comunque vinto sempre il migliore, grossi problemi non dovrebbero esserci ne stati. Cosa dire, ormai questa giornata è giunta al termine, domani ci trasferiamo tutti a Clusone e quindi in bocca al lupo a tutti e vi aspettiamo domani sulle piste da gara. Come avete disegnato il tracciato di Schilpario? Il tracciato è nato da solo, nel senso che, ripeto, è tutta neve artificiale e di conseguenza abbiamo cercato di allestire un po' il giro più vicino possibile attorno allo stadio perché poi comunque, dovendo portare la neve con i mezzi meccanici, non si poteva fare proprio delle grosse distanze. Abbiamo comunque allestito un giro della lunghezza di 3,750 km ed è stato sufficiente per poter svolgere queste gare che vanno dai 7,5 km alla 15 km. Alla luce della tua esperienza, come vedi dal punto di vista tecnico i ragazzi che si sono visti in gara oggi? Ho visto delle buone individualità, dei ragazzi che sicuramente hanno i numeri per poter andare avanti. Speriamo comunque, avranno comunque bisogno questi ragazzi anche di una certa dose di fortuna nel futuro per poter arrivare ad alti livelli. Poi, in bocca al lupo e allenatevi molto che fa parte del gioco. Fausto Denti, presidente della Fisi di Bergamo, questa è un'occasione davvero speciale per il movimento dello scinordico nella nostra provincia. È una bella vetrina che Bergamo mette in evidenza in questi giorni. Un evento unico in Italia, il primo di questo tipo. Quindi diciamo che è una bella occasione per far vedere quanto Bergamo è capace di organizzarsi in grandi eventi. Il debutto non poteva essere migliore, oltre alla splendida giornata, anche un'ottima organizzazione oggi a Schilpari. Sì, ottima l'organizzazione, grande impegno soprattutto dei volontari, dei tre sciclub che si sono uniti in questa occasione. Grande impegno perché quest'anno la neve non è arrivata e quindi sappiamo bene cosa vuol dire creare tre piste, perché tre piste per fare questa manifestazione. È una bella giornata, è il primo giorno di questo trittico che abbiamo inventato quest'anno con la speranza che si possa ripetere anche nei prossimi anni. È una bellissima situazione di collaborazione tra gli sciclub della Val Seriana e della Val di Scalve, tra parentesi i tre sciclub più blasonati, addirittura a livello anche regionale. Speriamo veramente, nonostante le difficoltà di innevamento qui a Schilpari c'è una situazione ottimale, tutto innevato veramente bene artificialmente. Speriamo che anche tecnicamente le cose siano buone. Da qui usciranno i convocati per i campionati mondiali, per cui queste tre gare sono veramente importanti per tutto il mondo del fondo nazionale. Anche Lara Magoni ha a Schilpari per questa prima giornata del Bergamo Schi Tour e con Schilpari ha un legame particolare. A Moschilpari il mio allenatore che mi ha concesso di diventare una campionessa era Toni Morandi. E quindi ci torno sempre molto volentieri anche per fargli un saluto. Cosa ne pensa di questa manifestazione, la prima edizione, questa idea che è nata per lo sci di fondo in Bergamasqua? Innanzitutto faccio i complimenti a queste tre splendide realtà, questi paesi, questi sciclub che insieme hanno dimostrato che facendo squadra si possono organizzare grandi eventi. Questo è un evento nazionale molto importante sulla selezione per i mondiali. Quindi stiamo vedendo veramente il top che abbiamo oggi sul territorio nazionale. E per questa valle credo che sia un fiore all'occhiello, visto che è nativi di tanti campioni. E ora l'appuntamento con la rubrica Erbe e Salute. Ascoltiamo i consigli per star bene della dottoressa Antonella Agostini. Buonasera a tutti. Questa sera parliamo di piccoli rimedi e suggerimenti che possiamo utilizzare quando abbiamo i geloni. Quindi se non abbiamo fatto prevenzione e non sapevamo di soffrire, ci ritroviamo con questi ponfi dolorosi, possiamo utilizzare, per esempio, abbiamo visto la pomata all'arnica. Oppure una pomata che contenga, per esempio, della canfora. Arnica e canfora messe insieme danno un composto che va a riattivare la circolazione e scaldare la parte dolorante. In questa maniera viene riattivato il microcircolo e pian pianino l'edema viene riassorbito. Un altro prodotto, questa volta per uso orale, sarebbe l'estratto secco di mirtillo nero. Il mirtillo nero è ricco di vitamina A, quindi va a proteggere la parete dei nostri capillari, dal più grande al più piccolo dei nostri vasi sanguigni. Quindi utilizzandolo per uso orale, dalle due alle tre compresse al giorno, nel periodo invernale, prevenite l'insorgenza dei geloni, ma quando li avete vi aiuta a riassorbire il ponfo. Un altro prodotto naturale che potete utilizzare potrebbe essere l'ippocastano o la mamelide. Sono delle tinture che vengono frizionate localmente sul gelone dolorante. Per gli amanti degli oli essenziali sappiate che esiste l'olio essenziale di salvia che diluito in qualche goccia in acqua calda potete utilizzarlo per fare degli impacchi sul gelone. Calma un pochino il dolore e l'infiammazione. Per gli amanti invece della omeopatia pura potete prendere i sali di Schussler. Rivolgetevi sempre come consiglio personalizzato al vostro farmacista di fiducia o medico di fiducia, in modo da adeguare la terapia anche con altre terapie che state già utilizzando. Arrivederci e buona serata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.